Andiamo a recuperare il prezzo azionario e altre informazioni relative ai titoli e scenari di nostro interesse. Oltre a fare questo, una volta che avremo recuperato queste informazioni con Excel facendo pochissimi clic, andremo ad automatizzare l'aggiornamento di questi dati, quindi Excel rimarrà aperto e ogni x secondi o ogni x minuti, il tempo che sceglierete voi, lui andrà a recuperare l'informazione aggiornata dal web. Fatto questo faremo un piccolo spin off in cui vedremo come ho creato questo automatismo in Excel aiutandomi con l'intelligenza artificiale, perché oramai l'intelligenza artificiale è a un buon punto e sotto questo punto di vista della programmazione vi può veramente aiutare tanto se non sapete fare qualcosa. Allora, per recuperare i titoli azionari e le sue proprietà, che qui ne vedete alcune, dobbiamo per prima cosa andare a recuperare il ticker che è associato al titolo azionario, che è questo qui che vedete qua, ma come le recupero? Basta andare ad esempio su Google, quindi andiamo direttamente qua e scriviamo ticker, ticker Amazon ad esempio, premiamo e lui fa la ricerca. Questa cosa che vedete qua è il ticker 1AMZN, quindi dobbiamo recuperare questa informazione. Proviamo un'altra, Essilor Luxottica. Se andiamo qui, vedete che il ticker di Essilor Luxottica è 1EL. Una volta che abbiamo recuperato i ticker del nostro interesse, torniamo su Excel, prendiamo ad esempio i primi, i tre che sono qua. Andiamo qua sotto, faccio un incolla valori, così ho semplicemente queste informazioni. Ve le metto di qua. Dopodiché cosa faccio? Vado a selezionare i miei ticker, vado nel menu dati e qui sul riquadro dati vado a premere il tastino azioni. Ecco che lui me li ha identificati, vedete che è comparsa la casetta. Ora, per estrarre le informazioni di mio interesse dai titoli azionari, andiamo sulla casellina che vedete qui in alto a destra, quindi premendo qui ci dà delle informazioni. Posso avere l'anno costituita, apri, azioni in circolazione, beta, capitalizzazione, chiusura precedente, scorriamo, 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 a un certo punto troviamo anche il prezzo. Quindi vedete che qui ci sono tante informazioni che possiamo andare a riportare all'interno del nostro Excel per fare tutto quello che noi desideriamo. Se io premo su prezzo, vedete che è andato ad inserire il prezzo. Quindi in questa prima operazione abbiamo recuperato il prezzo azionario. Ora, come aggiorno questi prezzi automaticamente in Excel? Dobbiamo aiutarci con il Visual Basic. Quindi se non avete il menu sviluppo qua su in alto a destra, andate nel menu file, andiamo in opzioni in basso, andiamo su personalizza barra multifunzione e qui schiacciamo su sviluppo, così comparirà il compilatore. A questo punto andando su sviluppo andiamo su Visual Basic, così comparirà il nostro compilatore. Vedete che io qui ho creato un modulo. Come si crea questo modulo? Si fa un clic destro sopra questa cartella di lavoro, facciamo inserisci modulo. Così facendo vedete che si crea un modulo dove possiamo inserire i nostri script. Se volete rinominare questo modulo, basterà andare qua sotto dove c'è il name, avendolo selezionato prima, e qua ci mettiamo il nome che noi vogliamo. Quando premiamo invio, vedete che ha rinominato il nome del modulo. Adesso io lo elimino perché ne ho già creato uno con la funzione. Eccola qua. Qui che cosa vado a fare? Vado a valorizzare una variabile, dim next update as data. Questa qui conterrà praticamente l'informazione della data. Dopo creo una sub che si chiama startAutoRefresh. Questa startAutoRefresh che cosa fa? NextUpdate, ok? Quindi vedete che vado a prendere la variabile che ho dichiarato in testata. E gli dico che è uguale a now, quindi adesso, data, ora, adesso, più timeValue, 10 secondi. Quindi lui valorizzerà questo nextUpdate con la data ora di adesso, più 10 secondi. Se qui andassi a mettere un 1 qua e metto un 0 qua, vado a fare data ora più un minuto. Questo è il tempo che lui attenderà prima di andare ad aggiornare nuovamente il dato. Tant'è che adesso io qua metto un 0, metto un 3, così poi lo vediamo molto bene. Quando io ho valorizzato questa cosa qua, lui qui prenderà la data nuova. E poi quando vado ad eseguire questa istruzione, application.onTime, quindi lui aspetterà che l'orario di sistema raggiunga questa data, che è nextUpdate, che è quella che avete visto qua su. Quindi quando l'orario di sistema raggiungerà questa data, virgola, passo un parametro, avvia questa funzione, refreshData, che è qua sotto. Vedete che qui c'è un'altra funzione, un'altra sub. E qui questa funzione cosa fa? Fa thisWorkbook.refreshAll. Questa funzioncina è come andare all'interno del nostro Excel, andare nel menu dati e premere aggiornatutti. Se io faccio così, vedete che qui cambia l'iconcina, perché va a recuperare le informazioni. Posso fare anche clic destro sul mio dato e fare destro, aggiorna. E lui va a recuperare l'informazione. Ma appunto, se andiamo in sviluppo ed eseguiamo questa stringa, facciamo praticamente la stessa cosa. Quindi poi cosa succede? Ho recuperato la mia informazione e creo un loop. Come creo un loop? Vado a richiamare di nuovo la funzione StartAutoRefresh, che è esattamente questa qua su. Quindi lui ogni 10 secondi, in questo caso perché qui ho settato 3 secondi, ogni 3 secondi lui andrà a recuperare l'informazione del web in automatico. E farà un ciclo infinito, continuo, finché non lo chiudo perché qui c'è lo stop refresh. Però non è così semplice perché quando io apro l'Excel questa funzione non parte. Quindi se la lasciamo così, io dovrei andare qui, creare ad esempio un tasto, forme, facciamo questo tasto qui. E qui dovrei poi andare ad assegnare quella macro. Eccola qua, refresh. Ok. StartAutoRefresh. Quindi poi quando vado qui e clicco partirebbe la funzione, però si apre e devo cliccare io qualcosa. Se voglio invece che parta completamente in automatico all'apertura del file, dobbiamo fare una cosetta in più. Quindi andiamo ancora nel Visual Basic. Questo è il nostro programmino. Se andiamo su questa cartella di lavoro, quindi facciamo un doppio clic, il codice lo mettiamo dentro a questa cartella di lavoro, o this workbook, se ce l'avete in inglese, quindi proprio doppio clic qua. Se lo mettiamo qua, che cosa facciamo? Andiamo a creare una sub privata. Va fatto proprio così, altrimenti non funziona. Private sub workbook.underscore open. Se io vado a definire una sub con questo nome e ci metto anche il private, quello che viene scritto all'interno di questa sub verrà eseguita automaticamente all'apertura dell'Excel. Quindi qui che cosa gli dico? Perfetto. Sull'apertura mi avvii questa sub, StartAutoRefresh, che se andiamo nel modulo è proprio questa qua di nostro interesse. Quindi quando noi aprirmo l'Excel, questa sub verrà eseguita automaticamente senza che noi facciamo niente. Dopo per fare le cose fatte bene, ho fatto anche quella di chiusura. Quindi private sub workbook.underscore before close prima della chiusura. E qua va scritto esattamente come lo vedete qua, Cancel Asboleon. Va proprio scritto esattamente così. E qua gli dico, avvia quest'altra sub, StopAutoRefresh. Che cosa fa StopAutoRefresh? Fa semplicemente annullare l'aggiornamento programmato. Quindi applica sul punto on time, scrive tutta questa cosa qua e vado praticamente ad annullare Scheduled Fals. Quindi vado a disattivare l'aggiornamento e poi lui chiude il file. Ovviamente quando chiudiamo il file ci chiederà di salvare il documento. Se vogliamo andare a salvarlo automaticamente alla chiusura, cosa che vi sconsiglio perché magari avete modificato qualcosa e è meglio non farlo, basterà ad esempio, in questo caso, possiamo fare un registra macro se non sapete usare il VBA. Facciamo semplicemente Salva. Andiamo, stoppiamo, torniamo dentro. Lui avrà creato un modulo. E eccola qui l'istruzione ActiveWorkbook.save. Quindi torniamo poi in Refresh e basterà semplicemente aggiungerla qua. Quindi se io adesso chiudo l'Excel, lui salverà automaticamente il file. Al massimo ci dà una richiesta di salvataggio. Ma potremmo disattivare anche quella cosa lì aggiungendo altre funzionalità. Quindi possiamo andare avanti poi con lo script come meglio crediamo. Comunque questo è l'automatismo. Come ho generato tutto questo con intelligenza artificiale senza sapere, senza avere idea di come scrivere questo codice? Facciamo subito un esempio e andiamo sul nostro amico GPT. Io ho la versione a pagamento che funziona un pochino meglio. Quindi vediamo, io uso la O1 mini che è un po' più avanzata e andiamo su chat temporanea. Qui ho detto, io sto recuperando, io sto recuperando le azioni dal tipo dati azioni di Excel. E ho la necessità di implementare un VBA che mi permetta di recuperare le informazioni automaticamente ogni 60 secondi. Forniscimi lo script da integrare in Excel. Vedete, un prompt discorsivo parlato, insomma, che spiegate più o meno quello che volete fare. Fate invio e lui che cosa fa? Adesso lui va ad analizzare la mini, pensa un pochettino rispetto a quelle free che vi danno una risposta immediata. La mini riflette e poi vi dà un po' una risposta. Vedete, non è detto che sia uguale a quella che ho appena implementato, però il risultato è lo stesso. Vedete che comunque in questo caso, pur avendo una richiesta nuova, mi sta proponendo la stessa identica soluzione. Ho lo start refresh con il this workbook refresh, anzi è leggermente diverso, quindi qua lui azzorna il dato. Poi prende la data e fa l'application on time next refresh. E poi mi mette questo, quindi lui mi ha inserito il refresh all'interno della stessa sub, invece su quella che mi ha proposto prima mi ha fatto 3 sub. Ma a conti fatti è la stessa identica cosa. E qui cosa si fa? Semplicemente copia codice, lo mettete sul compilatore di Excel, eccetera. Passo 3 vedete che vi da tutti i passi, no? E qua vi dice l'auto open e l'auto close. Questa qui l'ha fatta esattamente identica. Poi vi spiega anche come inserirlo all'interno dell'Excel, quindi è veramente veramente molto utile. Sulla programmazione vi consiglio di iniziare a utilizzare l'intelligenza artificiale, perché è veramente molto utile. Quello che dovete imparare del Visual Basic è assolutamente la struttura del compilatore, come funziona, che cosa è una variabile, che cosa è un ciclo, in modo che possiate interpretare quello che vi da e possiate eventualmente fare degli aggiustamenti se non è corretto. Per questo eventualmente trovate una mia masterclass all'interno del canale, che vi dà le basi del Visual Basic. Avendo le basi, poi con l'intelligenza artificiale potete creare tutti i programmi che volete, perché è diventata oramai veramente molto molto pontente. Bene, direi che anche con questo video è tutto. Se è stato di vostro gradimento, un bel pollizione in su. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete sostenermi, cosa veramente molto molto importante per me, perché gli abbonati sono praticamente le persone che mi stimolano e mi permettono di continuare a pubblicare contenuti come questo all'interno del canale, pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video, così potrete accedere anche a tutti i servizi che offre il mio canale. Altri sistemi per supportarmi li trovate in descrizione al video. Vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto. Ciao. Ciao.